Crespo entra in area dalla destra, attaccato, il suo cross, deviazione, corner, forza ragazzi, forza ragazzi, veloce, battono il corner, ci va Emre, forza ragazzi, è l'ultima azione, è l'ultima azione, forza ragazzi, forza ragazzi, c'è anche toldo, c'è anche toldone, 49-47, attenzione, forza ragazzi, parte la rincorsa di Emre, palla dentro, mischia, attenzione, è gol, 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 ha segnato toldone, non lo so che ha segnato, uno a uno, è allora, è allora, non lo so che ha segnato, ma chi se ne frega, in mischia, rivediamolo, un rimpallo, Vieri, palla a terra, non si capisce, toldo, 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 toldone, materazzi, o materazzi o toldo.